Anno 2038. Pieruccio da qualche anno ha cambiato casa, infatti ora lo si può trovare in Papuasia. La sua casa sarà anche cambiata, ma la sua passione resterà per sempre. Dopo aver giocato a Road Assistance Simulator ed essersi asciugato il vomito, va alla ricerca di qualche titolo interessante. E tra i trilioni di giochi esistenti, il nostro caro Pieruccio trova TaoTrak Simulator 2015. Ma dico io, non è possibile che trovasse un gioco di merda questo. Finito il download, durato un mese per la connessione di Medda, preme Start e inizia a giocare. Avviato, i suoi occhi brillavano di felicità. Poteva osservare il mondo in prima persona, amava prendersi cura delle altre auto e coccolarle nei momenti critici. Voleva spostare le auto che non rispettavano i codici stradali, perché lui è la legge. Ma l'unica cosa che sapeva fare era coccolarle. Ma lui andava bene lo stesso, almeno nei primi 5 minuti. E poi, purtroppo, Pieruccio aveva capito che aveva perso un mese di vita. Ready, aim, fire!